Ad esprimersi sull'apertura dell'ospedale di Agropoli è stato anche il primo cittadino di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, che ieri era presente all'importante inaugurazione dell'avvio dei lavori per il porto turistico di San Marco di Castellabate. La manifestazione presso l'area portuale ha visto la presenza del governatore della campagna Vincenzo De Luca. Subito dopo il presidente ha effettuato un sopralluogo all'ospedale di Agropoli insieme al direttore generale dell'Asla Salerno Mario Ierbolino e diversi sindaci del Cilento con i quali si è fermato per una riunione. Il primo cittadino capaccese ai microfoni di Cilento Channel ha parlato del nosocomio agropolese. Presto sapremo la data fatidica della riapertura H24, anche delle sale operatorie, della rianimazione e del rientro nella rete dell'emergenza. Queste sono cose per le quali abbiamo lottato. Sono stati contrattualizzati già dai medici per la radiologia e di laboratorio d'analisi. È stato fatto un avviso per 90 infermieri di cui gran parte arriveranno sul Vallo della Lucania. Il dato di fatto, dichiaro Alfieri, è che tutti gli infermieri che lavoravano nel presidio di Agropoli rientreranno in sede. Non ci sono più dubbi e tutto fatto, rimarca ancora una volta a conclusione dell'intervista il sindaco Alfieri, potenziare il personale con i concorsi in attesa degli specializzandi del nostro territorio, ma io sono fiducioso.